Presidente, naturalmente questa è una sede politica, non abbiamo gli strumenti per contrastare quelle che sono le sue tesi scientifiche. Quello che però rileva per noi è richiamare gli orientamenti espressi, anzi le disposizioni date dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Ministero della Salute, anche attualmente con la circolare, da ultimo che ho ricordato, quindi l'attuale Governo, da questa indicazione, il Consiglio Superiore della Sanità, le organizzazioni sanitarie italiane, europee ed internazionali che invece hanno espresso orientamenti diversi da quelli degli espressi, professore. Sì, mi scusi, solo una brevissima replica, io l'ho detto, non bisogna guardare, l'ha detto lui, l'ipsedixit, ma bisogna guardare le prove, quindi il peccato mortale è quello di non creare una sede in cui ci si possa confrontare sulle prove e ci si rimpalla soltanto a dire l'ha detto lui, l'ha detto quell'altro, sarà vero. L'Organizzazione Mondiale della Sanità deve mostrare le prove che ha in mano. Però non torniamo, il professor ha negato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dica quello, può però non essere d'accordo. Il professore può legittimamente non essere d'accordo, però non è che l'ha detto lui, l'ha detta l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ha detto il Ministero della Salute, l'AIFA, l'EMA, cioè intendiamoci, poi naturalmente possiamo... Collega Colucci sta parlando il Presidente, primo riabituiamoci al fatto che prima parla uno, poi parla un altro. Io quando lei parla non la interrompo, gradirei di non essere interrotto quando io parlo, se non esce fuori dal regolamento. Io sto dicendo, sto dicendo la stessa cosa, stiamo andando avanti su una cosa, non ha detto che non l'ha detto l'Organizzazione Mondiale, dice che ha sua opinione con gli studi che ha portato e che gli studi dice che non è efficace. Dopodiché non siamo né io né lei degli scienziati, noi degli studi non l'abbiamo fatto, quindi non possiamo giudicare. È chiaro quello che ha detto il professore, non è che sta negando che... Sta dicendo che ha la sua un'opinione diversa assieme a quella di diversi studi scientifici che ci ha portato all'attenzione della Commissione. Scusi, un'unica cosa, non è un'opinione, io cerco di non dire opinioni ma di portare degli studi. Se lei con gli esperti che consulterà avrà degli studi di pari validità che dicono il contrario, io sono il primo a essere interessato a conoscerli. Il problema è che non ce ne sono perché quello è una revisione sistemata. Grazie professore, io rimango convinto che la terra non sia piatta. Perfetto. Grazie professore. Vabbè, vabbè, hanno chiuso qua e chiudono qua. Cioè, che cazzo, scusa, io sono convinto di dire, scusa, la prima atteggia a lui perché è una cosa veramente deprimente. Ma no, ma è chiaro che ormai è la difesa di un fortino svuotato, è la difesa del bidone. Ma lui sta difendendo Conte, sta difendendo quel lavoro lì perché sanno benissimo che oggetto anche dell'indagine della Commissione è l'operato di quel Conte 2. Ma è imbarazzante. Poi dopo si domandano perché i 5 Stelle stanno perdendo tutto. Ma perché ormai è Conte, cioè esiste solo Conte. Auguri, almeno prima c'era Grillo, adesso è onestamente Conte. Insomma, Vanni, io lo trovo veramente offensivo, offensivo, che un membro della Commissione dia del terrapiattista ad uno come Donzelli che ha un curriculum veramente specchiato. Vanni, che ne pensi? Guarda, penso che, intanto Donzelli ha detto la cosa più importante, cioè lui non sta lì a dare le sue opinioni. Ognuno è libero di avere le sue opinioni, alcune sono basate su dati scientifici, altre sono basate sul nulla, su un'ideologia o un credo, come ha appena dimostrato questo parlamentare. Ma il punto non è tanto quello, anzi, il punto cruciale è proprio quello che dice questa persona. Questa persona dice, lo dice l'AIFA, lo dice l'EMA, lo dice il Ministero della Salute e via dicendo. Bene, il problema è che l'AIFA, l'EMA, il Ministero della Salute, il Papa, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio Draghi, eccetera, hanno mentito sapendo di mentire alla popolazione. E lo hanno fatto sia a livello italiano che a livello europeo. Ed è tutto, è scritto nero su bianco su qualunque cosa, come l'ultima, diciamo, sentenza che abbiamo appena guardato, che non fa altro che ribadire per l'ennesima volta quello che noi andiamo dicendo da tre anni. Cioè, la verità è molto semplice, è inconfutabile. Le leggi non avevano un senso, tutto quello che è seguito non ha avuto un senso. I dati sull'uso delle mascherine, una volta che ci sono le metanalisi, che ha citato Donzelli, significa che il discorso è fondamentalmente finito. Si può continuare a credere che abbiano un ruolo per provare a difendere appunto la propria immagine, ma quell'immagine è uscita già distrutta dalla prova della realtà. Perché la gente si è andata a vaccinare pensando che si sarebbe infettata e non avrebbe infettato le persone. Dopodiché si sono fatti quattro dosi e si sono presi il Covid cinque volte. Per cui, a prescindere da tutto, guarda che la razionalità fa difficoltà in qualche maniera a mettere i dati insieme, unire i puntini e continuare a dire la stessa cosa. Ed ecco perché ti risponde come quello lì, io continuo a pensare che la terra non sia piatta. Cioè c'è proprio il rifiuto totale di entrare in una considerazione critica di quelli che sono i dati che ti sono stati esposti. Perché se li vai a guardare, significa che il terrapiattista sei tu. Ci vuole un certo coraggio. C'è, Alberto, anche secondo te questo blocco psicologico, direi psichiatrico a questo punto, da parte delle persone che rifiutano proprio di aver commesso un errore al di là veramente dell'inverosimile. E quindi in qualche modo c'è una difesa strenua. Questo esiste, è un blocco psicologico talmente evidente che non ce ne viene bisogno di parlarne. Ma quello che volevo citare prima a proposito della sentenza è che questo membro della Commissione ha praticamente già fatto capire quale potrebbe essere i motivi di un ricorso alla sentenza di cui sopra, che è inoppugnabile da tanti punti di vista. Ma uno può dire però, l'OMS, le istituzioni della salute europee, nazionali e internazionali dicono il contrario e noi ci appelliamo a questo. Questi si nascondono dietro questo. E' per questo che il pessimismo della ragione di paragone ha un suo perché. Per questo motivo, perché si nasconderanno dietro questo paravento. Capisci, dover ammettere di fronte alla realtà che hanno sbagliato come minimo, che hanno mentito come massimo, è veramente grossa. Però ripeto, c'è bisogno di uno scossone fondamentale. Per questo che lo scossone delle elezioni americane, se vanno come ci auguriamo, non è che improvvisamente tutto diventa meraviglioso, una pratteria verde con i fiorellini rosa, ma sarà un cambio di prospettiva e quindi lo sarà di conseguenza anche sul fronte farmaceutico, sanitario, eccetera. Quindi, ripeto, è incredibile, è incredibile. Però sono dei muri incrollabili, ma io lo vedo nella mia famiglia, non c'è niente da fare. Io che dico queste cose, ogni volta che porto un documento mi dicono sì, vabbè, ma tu sei un complottista. Ma scusa, lo volete leggere? Ah no, ma io non ho tempo, io mi fido del Ministero della Salute. Cosa direi? Non puoi rispondere. Cioè, non c'è possibilità di dialogo. Non c'è possibilità. E poi mi dice anche mia moglie, come vuoi che le istituzioni ci vogliano così male? E io cosa vuoi che ti risponda? Sì, è così.